Siamo con Forza Italia questa mattina per un sopraluogo a quello che diventerà il punto di riferimento di una utenza di circa 100.000 persone. Una struttura, l'ospedale di Venaria, che nasce su 11.000 metri quadri in via Don Sapino e su cui sono stati investiti 17,8 milioni di euro, di cui 8 milioni dalle istituzioni, 7,1 milioni stanziati dalla regione Piemonte e 2,3 direttamente dall'ASL attraverso un mutuo legionale. Mimmo Delisanti, a marzo hanno detto che questo ospedale verrà consegnato. Stiamo facendo questo sopraluogo di cui devo ringraziare l'onorevole Daniele Ruffino che ci ha dato la possibilità di poter entrare nel vivo all'interno della struttura. Devo dire che abbiamo visitato la struttura che comunque è quasi arrivata all'80% del completamento come struttura interna. Siamo già all'infissi e quant'altro, di cui l'SCR credo che stia facendo un buon lavoro. Devo dire che comunque parallelamente ci sono delle problematiche che dovremmo risolvere al più presto. Di fatto abbiamo chiamato gli enti superiori, abbiamo chiamato la Daniele Ruffino a darci anche una mano perché ci sono le strutture esterne che non sono di competenza da parte dell'azienda costruttrice ma sono di competenza di enti esterni, soprattutto dell'amministrazione comunale di Venaria Reale. Di cui abbiamo dei problemi legati soprattutto alla costruzione del parcheggio, quindi all'interazione tra la città e l'ospedale. Quindi diventa un problema perché comunque ad oggi la quasi struttura ultimata siamo privi di essi. di esso, quindi siamo qui a discuterne e quindi nelle prossime settimane avremo modo anche di interfacciarsi con l'amministrazione comunale per capire a che punto siamo, anche perché comunque la situazione comincia e diventa sempre più, si sta stringendo, quindi visto che comunque tra alcuni mesi, penso nel marzo 2019, venga consegnata la struttura e si rischia di avere qualcosa di letteralmente fermo e quindi cercheremo in tutti i modi e quindi chiederemo anche all'amministrazione di attivarsi e di accelerare le pratiche in modo da avere il nostro presidio ospedaliero subito in partenza. Con la nuova struttura che tipo di servizio si vuole dare? Sicuramente i servizi devono essere soprattutto di primo apporto, devo dire il primo apporto è che comunque la città, questo ospedale lo ricerca da moltissimi anni, anche perché comunque il vecchio ospedale a ridosso della reggia ha sempre avuto delle problematiche soprattutto anche adesso legate a situazioni trasportistiche e logistiche, quindi soprattutto questa struttura ubicata in una struttura esterna, confinante con altri comuni, diventa anche un polo interessante per poter interagire con parecchie attività di cui sia la regione che le future amministrazioni comunali dovranno gestire via. Onorevole Rufino, un ospedale nuovo di Zecca ma intorno non c'è il nulla. Intanto oggi abbiamo avuto la possibilità di visitare anche l'esterno dell'ospedale per questo ringrazio SCR per la disponibilità che ci ha dato, certamente preoccupazione per come verrà gestito l'ospedale nella parte esterna per i tempi, devo dire che la sensazione da parte dell'impresa è stata positiva, negativa quella relativa alla viabilità per raggiungere all'ospedale e ovviamente la preoccupazione per i tempi di realizzazione dei parcheggi. Questo è un ospedale che è atteso da tempo, non possiamo più permetterci di dire alla popolazione che ci saranno dei ritardi. Sconosciamo tutti la situazione attuale dell'ospedale di Venaria, un ospedale vecchio che ha bisogno di essere rinnovato, città e territorio che ovviamente hanno bisogno di servizi che oggi non vengono dati. Teniamo conto che nella parte originale, ne parlavamo prima con Rosario Galiti, si parlava di un ospedale molto più grande, quindi noi immaginiamo che questo sia un primo lotto, certamente un secondo lotto per dare le risposte, certamente la parte dei mezzi pubblici che dovranno arrivare sin qui perché dovranno facilitare l'accesso all'utenza, un allargamento della viabilità, una rotonda. Questo è ciò su cui ovviamente ci dovremmo confrontare per fare in modo che i cittadini possano credere in qualche modo, anche se è passato molto tempo, a chi amministra Venaria, a chi amministra la regione, quindi al sindaco Falcone e all'assessore Saitta. Anche perché l'anziano chiede servizi, i servizi sono parcheggi, i servizi sono i mezzi pubblici, qui siamo un pochettino circondati dal nulla. Allora arrivare sin qui effettivamente la sensazione è particolare perché l'ospedale ovviamente è distante dal centro, vorrà dire che bisognerà lavorare intorno a questo progetto. L'anziano fatica ad arrivare in ospedale, non sempre ha la famiglia a disposizione. Vediamo all'estero spazi avveniristici, accoglienti, facilmente accessibili. Questo è un nuovo ospedale che è costato tanto, non posso immaginare che non abbia questi requisiti ovviamente minimi. Anche perché l'utenza è di circa 100.000. È un'utenza importante in questi anni, quando ero ancora consigliere regionale, io ho fatto parecchie interrogazioni all'assessore Saitta, dei question time, ho chiesto risposte precise, risposte che devono essere date. Questo primo accesso al cantiere ci permette di capire come dire, lo stato dell'arte. Da qui in poi sicuramente in tempi ravvicinati abbiamo anche un comitato che è sorto proprio per cercare di dare delle risposte ai venariesi che non sanno nulla, non sanno che cosa sta capitando. Allora con un senso civico e per quanto mi riguarda ovviamente anche come deputato della Repubblica mi occuperò di questo e mi occuperò anche di chiedere alla regione ovviamente il secondo lotto perché sappiamo tutti che c'è una carenza incredibile di posti letto, che i pazienti da Rivoli vengono spostati a Venaria Reale e magari da Venaria Reale vengono spostati altrove. Allora è ora sicuramente di terminare questo tour che non fa bene a chi già deve frequentare l'ospedale perché ha problemi di salute. Noi vogliamo delle risposte sul territorio, risposte adeguate perché la cura della persona e della salute sono sicuramente prioritarie. Rosario Garifi, c'è stato un tavolo con l'amministrazione. Sì, grazie. Intanto permettetemi prima di arrivare al tavolo di ringraziare Daniela Ruffino e la SCS che ci hanno dato la possibilità di venire qua a constatare di persona e confermare purtroppo quelle che erano le nostre preoccupazioni perché la nostra preoccupazione è che si faceva una struttura sanitaria a Venaria ma che restasse una cattedrale nel deserto. Forse non sarà una cattedrale nel deserto ma sicuramente si perderanno e si allungheranno i tempi per metterle in funzione. Noi abbiamo avuto incontri con il sindaco Falcone per quanto riguarda le opere di urbanizzazione spettanti al comune e su questo argomento abbiamo chiesto espressamente i collegamenti con i mezzi pubblici. Il trasporto pubblico lui ci ha detto che non c'era ancora niente e che forse l'unica cosa che sarebbe mancata all'ultima dei lavori erano proprio i collegamenti pubblici. Allora su questo noi insisteremo e cercheremo di sentire anche la GCT a che punto è questa questione e a questo aggiungerei che stiamo preparando un incontro con la città metropolitana per capire in realtà come poter risolvere il problema e dare servizio a quei cittadini che ne hanno bisogno. Forse se posso aggiungere è particolare questa situazione perché quando non sono le amministrazioni a dare le risposte ai cittadini in questo caso sono i cittadini che se le vanno a cercare per poi poterle riversare sui cittadini quindi io non posso che ringraziare il comitato per quello che sta facendo e certamente essere al loro fianco. Noi siamo l'impresa che sta realizzando quest'opera e presumibilmente intorno a fine marzo, primo di aprile completeremo il nostro contratto. È un edificio ospedaliero, una struttura ospedaliera di quattro piani di cui tre fuori terra e dove sono previste delle degenze a secondo piano, ambulatorie al primo e ambulatorie diagnostiche al piano terra e l'interrato è dedicato a locali tecnici, mense e spogliatoi per il personale utente e personale operante, infermieristico e medico. Insomma una bella gatta da appelare che se non risolta potrebbe costare una brutta figura. Per raggiungere la struttura bisogna a gioco forza prendere una stradina sterrata e semina nascosta che parte da Corso a Machiavelli, percorre un lungo stradone in mezzo ai prati fra via Don Sapino e la strada provinciale 176 della Savonera, concesso in comodato d'uso dal comune di Venaria Reale.